Salus a 18 luglio 2011. Con tutte le cose, che accadranno per migliorare la vostra vita, potete considerare del tutto futile qualsiasi tentativo di impedirle. Tutto è già predisposto e stiamo aspettando il segnale che ci consentirà di muoverci rapidamente. La vostra fede in noi e nei nostri alleati fu ben riposta e come si suole dire noi consegneremo la merce. Già da parecchio tempo siamo perfettamente pronti e di continuo, apportiamo modifiche per adeguarci a quanto avviene sulla Terra. Anche durante l'anno in corso, avete assistito ad avvenimenti importanti, che hanno smascherato le attività degli oscuri, tutto ciò continuerà e stavolta i colpevoli saranno tradotti in giustizia. A differenza di quanto accaduto molte volte in precedenza, non riusciranno a farla franca e questo servirà da monito a chi ora teme per la propria libertà. Conosciamo perfettamente chi sono i principali fautori delle tenebre e teniamo sotto stretto controllo le loro azioni. Non esiste alcun evento accaduto sulla Terra, che non possa essere riprodotto in caso di necessità. Ugualmente, chi lascia la Terra dopo aver abbandonato il corpo fisico con la morte, può passare in un rassegna tutta la propria vita. È qualcosa che, vista dall'esterno, fa riflettere, perché gli uomini non sembrano preoccuparsi molto di come appaiono agli occhi altrui. Per quanto riguarda i debiti karmici, l'ascensione sarà di fatto retta dalla legge di misericordia e qualsiasi debito, che restava da saldare, l'avrete già cancellato. La vostra esistenza attuale, con ogni probabilità, vi offre modo di compensare il karma immediatamente, a differenza di come avveniva in precedenza, consentendovi di cancellarlo. In tal modo, potrete completare la vostra ultima esistenza nella dualità e procedere verso l'ascensione, senza l'ingombro di qualsiasi genere di karma irrisolto. Questo non significa che nei regni superiori non esiste il karma, ma è raro e riguarda più il discernimento, che veri e propri a ti. Non dimenticate che a quel momento sarete già esseri di luce, perfettamente consapevoli. Qualsiasi azione malvagia sarebbe del tutto fuori luogo e senza motivo, poiché non vi mancherà nulla ed il denaro non esiste. In ogni caso, le anime che potrebbero altrimenti partecipare ad attività negative, non avrebbero vibrazioni sufficientemente alte da trovarsi ad un livello tanto elevato. Soltanto sulla Terra è possibile trovare una tale moltitudine di anime a livelli di coscienza tanto diversi. Questo rende la prova della dualità particolarmente difficile e c'è il costante pericolo di essere attirati verso il basso. Molto spesso, l'ego si intromette e di frequente i motivi sono i soldi e la notorietà. Talvolta, vi capita di nascere in tali favorevoli circostanze per il semplice motivo di essere messi alla prova e vedere se riuscite a superarla, senza acquisire arie di superiorità. Molti di voi sognano la ricchezza che, però, comporta più responsabilità di quel che immaginate. Aspirazioni del genere non saranno più necessarie nei regni superiori, perché potrete disporre di tutto il necessario, oppure ricorrere al vostro stesso potere creativo. La vostra esistenza avrebbe potuto essere molto più soddisfacente e gratificante se non fosse stato per gli Illuminati e di loro servi. Povertà, morte e distruzioni da sempre sono i loro compagni inseparabili e foste costantemente tenute a freno. Comunque sia, tutto questo presto cambiere già la loro influenza sta rapidamente evaporando. Se tutto va bene, tra qualche mese potrebbe accadere un avvenimento di grande importanza, che metterebbe tutto in moto. Non ci riferiamo all'11 novembre 11, anche se si tratta di un'occasione importante, che toccherà ogni anima sulla Terra. È possibile, che per la prima volta molti di voi si sentiranno veramente elevati più in alto. Si tratta di un ulteriore segno, che assicura il vostro destino e vi mostra quanto aiuto state ricevendo. Tale data potrebbe essere considerata come il vero inizio dell'ascensione ed il detonatore di circostanze ancor più numerose, intese a farvi progredire. Contiamo di essere molto più attivi a partire da quel momento, che può considerarsi il precursore di un'epoca molto appassionante, in cui i vostri desideri cominceranno ad essere esauditi. La pace mondiale, finora inafferrabile, dovrebbe essere molto più vicina e, persino ora, pochi desiderano continuare le guerre, che al momento imperversano. Naturalmente, dietro a tutto questo, c'è il crescente aumento del livello di coscienza della gente, che dice forte e chiaro, che troppo è troppo. Sappiamo che i lavoratori di luce stanno incrementando gli sforzi per preparare la gente a quanto tra breve avverrà, e possiamo asserire, che molti si stanno svegliando all'eventualità di mutamenti per il meglio invece di considerarli apportatori di disastri, le persone leggono tra le righe ed accettano che produrranno buoni risultati. La ripulitura deve proseguire e la nostra presenza sulla Terra accelererà queste operazioni, con vostra grande delizia. Troppo a lungo la gente è vissuta tra i disastri provocati dai disegni degli oscuri. Tutte le macerie da loro causate dovranno scomparire, come pure tutto ciò che non ha più motivo di esistere. L'esordio sarà il mezzo per raggiungere un obiettivo, che supera qualsiasi vostra attesa e sarete più che felici del risultato raggiunto. Carissimi, vi abbiamo molto parlato del futuro, che si avvicina, e spesso ripetiamo il messaggio per esser certi, che lo ricordiate. La gente si scoraggia facilmente quando le cose vanno storte o non rispondono ai loro bisogni. Noi sappiamo esattamente cosa vi eleverà a tutto è già pronto per voi e sarà vostro non appena scatterà il momento giusto. Tenetevi bene occupati e considerate gli oscuri anime che stanno iniziando a ritirarsi, sapendo che il loro tempo è scaduto. Si è vero, continuano a rumoreggiare e tentano di difendersi fino all'ultimo, ma senza alcun risultato. Non possono competere con la massa di esseri di luce, che li circonda. Tocca a loro ora provare cosa significa aver paura e non avere più futuro. I loro progetti di vita li stanno conducendo fino in fondo alla fine dei tempi e, tuttavia, continuano a vivere in un'illusione, ma tutto è completamente diverso per chi cammina lungo in sentiero di luce, che conduce all'ascensione. Voi siete esseri di infinito amore e luce e noi vi chiediamo soltanto di effonderli senza risparmio ed equamente a tutte le anime indistintamente. Ricordatevi che, ad un livello più elevato, vi renderete conto di essere tutti uno e che, a un dato momento, sarete nuovamente riuniti. Talvolta ci dilunghiamo a spiegare che siete tutti connessi gli uni e gli altri e che quello che accade ad un essere tocca tutti gli altri. Fate quello che fareste per qualsiasi anima compromessa, che debba essere riportata alla luce dati amore incondizionato. Io sono il siriano Salu Sa e vi garantisco che la fine è in vista e che gli eventi prenderanno il via tra non molto. Grazie, Salu Sa. My Queen 6 Traduzione Costanza 2003